musica 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 in avanti raga la prossima volta eh io tre chiamate l'uomo eh si la scala la scala seguo là seguo lo seguo guarda 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 c'è c'è bravo guarda guarda a left mezzo in mezzo tu a tu bravo ok guarda 1-1 bravo 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 giocala bravo dammele vai 1 bravo bravo guarda servizio che guarda 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 Occhiamo, occhio a quello, Flavio, Ale è quello qui dietro, mi batte la sesta, tra l'altro che riceve. Seguo. Occhio al taglio. 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 Bravo Andre. Io questo, io questo. Torna. Troviamo Andre. Tappiamo. Zampi 10, Claudio colpi dietro. Trascipante. Vai tu, vai tu. Dai Zampi. Vai Zampi. Oh, oh, oh. Stavolo. 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 Stavolo fuori Andre. Stavolo fuori Andre. Andre, Andre. Stavolo. Eh buona, vai. Vai, vai. Bravo Zampi. Guardalo, guardalo. Guardalo, guardalo. Da qui. Uno su quello che riceve e l'altro su di barri. Va bene. Moschi. Tira. Oh, bravi, bravi. Bravo Zampi. Bravo Zampi. Buona ragazzo. Uno. Quattro a dieci. Bene, Flavio. Arriva. Per quanto riguarda i pianistretti, vai tipo! Guarda. Guarda lì. Tu, Ale. Molto aspettarvi addosso, se non è giocato il secondo. Guarda. Mi fatica anche qui, sennò. Allora, lo stanno? Meglio sulle marchetture a scalare, eh. Grazie. Ok, a sinistra. Non togli, là. Bene, va bene Guarda bene Tieni ne uno lì Vieni, 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 vieni Uno Due Tre Uomo Sì Vieni In angolo Omini in mezzo, attaccati Uno Va bene Laterale, laterale Uno due Uno che sta, uno che segue Mantri Non così, ragazzi Trappi siamo tutti e due dieci La Cambiale Sì Vamo Scusa Arretta, arretta, andrei liberati da Bene Ti batte, seguilo La, seguilo Bravo Ale, grande Ale Sì Ale, Ale Ok, seguilo Ale, su tre Sali Sali, sali, sali Vai, vai che non so Bravo, Claudio Non vogliamo Ale Arriva Uno Uno Non così, otto Vantaggio, vantaggio Vedi fra le Ale, vai dentro Uno dentro Va bene, va bene Lui, l'uomo, ce l'ha Ale, ce l'ha Ale Tu prendi quello fuori, Andre 1 torna, torna uomo 10 a destra 10 a destra 1 1 1 1 a destra, 1 a 6 1 portatore, Claudio quello, Flacco segui tienilo Ale, tienilo non va Ale, è tuo Ale, è tuo ce l'hai, ce l'hai lascia, lascia Ale, Ale torniamo, liberati destra, Vigio Vigio, sta lì a chi lì buona destra, Vigio come marcano subito le marcature, Ale con il sbordo Vigio si scuola che parte la remessa la linea, linea, linea gli altri a marcare esatto non facciamo non facciamo dico Aldi Aldi entro si, buono ma no se lo vedo marchiamo Vigio su chi batte tra su il sbordo ocio 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 che sono guarda qua marchiamo Fladio quello dietro Ale, quello dietro quello è tuo quello è tuo seguilo seguilo Vigio servici l'uomo Fladio Ale, quello dietro quello è tuo seguilo seguilo Fladio lo devi seguire bravo dai ragazzi seguiamo l'uomo seguitevi l'uomo dai buono non ragiona l'uomo stiamo lì stiamo lì stiamo lì andrei andrei palla oschi due 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 seguilo eh Ale si Ale Ale uomo Ale andate seguilo Ale seguilo seguilo ah gliela va bene un gol un gol Ale dietro 대 la stava poggiando marchiamo destra e i due fuori sul palo Ale quello l'undici ma perché mi stai spiegando il mio ultimo come tempo bravo non così prendi la 1 bravo Ale bravi dai ragazzi vediamoci guardi agli uomini quello che batte Oskij quello che batte va bene va bene ragazzi erati in difesa a platine 2 Vigio adesso è il supportatore radio portatore ora seguilo Ale seguilo Vigio fermati buona 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 si vitti aiuto aiuto alla destra veloce vai dentro vai dentro subito tira bravo Oskij bravo 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 Torna, torna, torna! No, no! Vieni! Cambio! No, no, no! Vigio, Vigio! Vaglio fa! Vigio! Vigio! Adesso! Adesso! Vigio! 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 Grazie! 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 Bravo! Ok, va bene! Vigio! Vigio, �attore! Uno! Vigio al Patatore! Vigio, freeze! È fondo! Il fondo! Infondo! È uscito all'angolo! Uno! Due! Boh.. Oh! fib! Eh, ragazzo! il nostro bravo Flavio qua 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 arriva 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 Ale arriva anche qua alzati Oski palla grande Ale fuori Andre va bene il 9 Ale 1 lascia i palloni fermiamo bravo Andre veloci veloci arriva grande Ale bravo 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 15 34 1 sinistra Andre Andre lui Andre palla dai Andre speriamo guarda guarda attaccato Oski alto no raga giochiamo o no non devo andare Nicola stienilo bravo dai 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 quello che batte seguilo seguilo vai in tre vai in tre tira tira va a sinistra Nicola due contro due bella bravissimo aspetta 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 non dobbiamo entrare no bene torna torna sono pochi la fai tre dai dai ce l'hai siamo dai dai un dai 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 Facciamo un riconoscimento, arbitro, intanto che c'è il time out. Grazie per la visione! 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 Corri! Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! ce ne sono due! grazie a tutti! 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 Chiudo aiutalo nel pressing. Ho visto qualcosa da dietro, non lo so se eri tuo o l'altro, però l'ho vista la trambatta. Non scappiamo dietro gli avversari, chiediamo il supporto. Bravo, 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 bravo. Se non chiede la distanza, sottoporta. Zampi, vicio, cattivi adesso sottoporta, è decisi, spaccate la porta. Mi prende un po' di te e perché... No! L'ho fatto l'aria, lasciala, lasciala eh! Scusa, fusa, fusa! Sai, c***o! chi sono? seguiamo gli uomini sei qua, sei qua sei qua, sei qua è persa eh perché non la giochi qua? non nemmeno raga concentriamoci sulla partita manca tempo diamo tutto cresciamo alto vieni vieni la destra, la destra seguilo, seguilo oh ci sta, ci sta, voleva vedere è quinto raga quinto Vigio, basta falli no, basta falli è quinto eh basta, basta falli ormai gode la vinta è preciso va bene Flavio vai che ce la fai senza tre senza tre tre Flavio Flavio, dietro di te Flavio via via Genio è preso oh lui oh Flavio dai dai non mollarmi Flavio non mollarmi guarda Flavio guarda Flavio oh Flavio oh grande Ale guarda il colpi di tacco poi in mezzo tre a zero guarda tutto sto casino vale vale vai Fabio oh palla palla gioca di nuovo qua dai raga dai raga portiamola a casa almeno un gol dai dico dico mi viene occhio a destra uno a sinistra da qua vai bravo bravo dai Vigio qua Vigio su dieci uno uno due 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 dai Ale non così sei davanti seguilo dai Ale dai dai Ale ok uno vai dentro vai dentro aiutalo diamo una mano cambio 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 figa diamo una mano quando si va sulle fasce bro guarda Sì ecco vale occhio a destra buona buona stupare ucciso bravo Fabio dai raga va bene dai dai arbitro tempo Mancano quattro minuti, compreso il recupero del time-out, ok? 17.06 17. Raga, alena due! Alena due! Alena due, raga! Dai, dai, dai! Segui Sandro! Bravo Fabio! Possiamo fare queste cose qua davanti, ragazzi! Non scherziare! 18-08 Dai, dai, dai! Uno, facciamone uno! Bravo Oski! Ballo! 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 Occhio! Occhio! Ballo! Ballo! Secondo! Occhio e due, ragazzi! Ballo! 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 19-03 Dai, ragazzi! Vediamo tutto fino alla fine! Il mio team? No... Tre! A presto! Occhio e due, ragazzi! Vado! Pertanto, Pertanto! 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 Guarda! Pertanto, Pertanto! Pertanto! Uno alla fine, un minuto! Pertanto! Aspetta che ci, perché ne avrà le riavozze! Eh! Qual volta? Pertanto, Pertanto! Gli ammoli! Basta! Pertanto! Oh! Dai dai dai! Due due due! Due! Uno! Vieni qua, vieni qua! Ok. Tic! Quello Flavio, quello che riceve? Zappi su chi batte! Uno! Eh, l'ho visto, l'ho visto! Tic! Via via! Basta! Ohohoho! Che giro di sinistra! A me fa che non la passa! Sì, vieni qua! Sì, vieni qua! Va bene, va bene! Qua dietro! LIC! Qua! Sì! 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 Sì!